Presidente Aiello, un anno solare che si chiude nel migliore dei modi, promozione dalla B alla A2 e ora questi tre punti che avvicinano la messaggeria alla salvezza nella categoria? Sì, era ora, abbiamo aspettato l'ultima partita dell'anno per far sì che questi tre punti ci potessero dare molta gioia, sono convinto che ne abbiamo persi un po' per strada, potevamo fare anche meglio, però sicuro è un anno sportivo da incorniciare, promozione in Serie A, primo anno di Serie A2, lo stiamo svolgendo con tantissimi sacrifici ma spero nel migliore dei modi, i presupposti per fare bene secondo me ci sono tutti. Un campionato che non si ferma, si torna già in casa il 7 e nel frattempo c'è la partita a Roma il 3 gennaio. Sì, questo devo dire che comunque è una scelta della Lega che secondo me non è molto azzeccata perché proprio nelle vacanze natalizie, chiamiamole così, giochiamo quattro partite. Sì, è veramente pesante anche per i ragazzi stessi. Abbiamo giocato il 26, il 30, giocheremo il 3 e giocheremo ancora il 7. Sarà veramente molto dispendioso dal punto di vista mentale, dal punto di vista fisico, però noi stiamo lavorando per questo, noi stiamo cercando di farci trovare pronti e cercheremo giorno 3 di arrivare a Roma e fare del nostro meglio. Quindi arrivare ormai anche alla fine dell'anno con una salvezza tranquilla? Beh, una salvezza tranquilla. Secondo me avessimo fatto qualche punto in precedenza che si doveva fare, poteva essere un po' più tranquilla. Adesso noi ce la dobbiamo giocare, partita dopo partita. Adesso mancano tre partite per la fine della prima fase, della regular season. E di queste tre partite noi dobbiamo cercare di fare quanti più punti possibili, per cercare di entrare nel secondo gruppo. Mister, un Catania quasi perfetto questa sera, tre punti fondamentali in chiave salvezza e il campionato non si ferma, continuerà e il 7 ci sarà anche l'ultima giornata in casa. Sì, noi ancora abbiamo da giocare quattro partite, dobbiamo giocare a mille, dobbiamo riuscire a fare più punti possibili, dobbiamo mantenere la serie a Catania. Per farlo la strada più facile è riuscire ad entrare nel Gigione B e questo è il nostro obiettivo. Per farlo abbiamo bisogno di tutto quello che abbiamo in questo momento, riuscire a fare di virtù qualsiasi pallone. Tutti i palloni che ci passano per le mani sono dei palloni che servono per questo obiettivo e quindi dobbiamo giocarli bene. Mister, abbiamo visto anche una bella forza di reazione da parte dei ragazzi nel quarto set, che diciamo dopo che nel terzo c'era stato un calo e anche all'inizio del quarto poi un Catania completamente diverso che è riuscito a riprendere in mano la partita e a vincerla anche con un risultato abbastanza ampio. Sì, c'è stato un momento purtroppo troppo lungo perché ci ha compromesso completamente il terzo set e stava per comprometterci anche il quarto set. Meno male che la carparbietà, l'energia, la forza, la volontà di questi ragazzi non è stata doma. È riuscita a ribaltare questa situazione portandola in una situazione di parità grazie alla bravura dei gesti atletici di assoluto livello di parte dei nostri e poi la squadra si è risaldata per portare il risultato finale alla vittoria. Capitano, una partita quasi impeccabile questa sera, manca sempre qualcosina per chiuderla a 3-0? Sì, manca quella grinta, come hai detto tu, è la parola esatta. Magari il fatto che è una squadra giovane non ci ha aiutato tantissimo però l'importante, ti dico la verità, l'importante era vincere 3 punti, 2 punti era veramente importante per il morale, per il proseguo del girone, per salvarci. Era veramente stasera una finalissima da vincere, fortunatamente ci siamo riusciti. L'ultima partita del 2017 era già cominciata bene la scorsa stagione, è finita nel migliore dei modi quindi speriamo che ora si possa arrivare il prima possibile a questa salvezza. Sì, è un campionato molto equilibrato, soprattutto nella parte bassa dove siamo noi ancora è incerto chi andrà nella pool B, nella pool C, noi siamo là tra playoff e playout e sinceramente ce la metteremo tutta come stasera per mantenere la serie. La cosa bella è che anche questa sera con questa vittoria arrivata con 3 punti pesantissimi scavalcate anche i vostri avversari di potenza picena. Sì, noi non facevamo calcoli come ho detto prima perché l'importante soprattutto per il morale era vincere. Ora a maggior ragione abbiamo altre finali contro Roma, contro Reggio Emilia sono una dietro l'altra quindi sarà importante rimanere concentrati. Adesso pensiamo subito a Roma perché comunque non vuol dire il fatto che siano primi che non ce la possiamo giocare o conquistare dei punti importanti. Ti faccio un'ultima domanda, cosa pensi che manchi nei momenti diciamo di vuoto della squadra come nel terzo set perché era cominciato bene e poi c'è stato come un blackout completo della squadra e avete subito molti punti che poi alla fine hanno portato alla sconfitta. Ok, secondo me manca, come ho detto prima, un po' di esperienza. È mancata più o meno tutto il campionato, però noi siamo consapevoli che la nostra è una squadra in cui il singolo non può giocare da solo, cioè dobbiamo giocare comunque da squadra. Se uno molla è difficile portare la vittoria a casa quindi anche oggi sì ok abbiamo mollato però poi ci siamo un attimino riuniti e abbiamo fatto squadra ed anche questo non era facile ed era importante perché comunque nel finale set era difficilissimo portare a casa la vittoria ma ci siamo riusciti. Con Francesco Sideri, allora Francesco dai, una bella partita. Forse è mancata qualcosa di distrazione solamente nel terzo set ma poi un Catania impeccabile in due sette e mezzo soprattutto, primo, secondo e la seconda metà dell'ultimo set quello portato a casa. Sì impeccabili sì ma adesso questa vittoria ci voleva tanto per l'umore diciamo che non l'abbiamo perso ma è calato un po' nelle scorse partite e adesso iniziamo l'anno con dei bei propositi. Tre punti pesantissimi anche ai fini della classifica, avete scavalcato proprio i vostri avversari di questa sera quindi pensate già alla prossima partita, intanto questa sera vi godete la vittoria. Questa sera sì, ci godiamo la vittoria, ci godiamo il fine anno e ricominciamo subito il 2 ad allenarci perché il 3 giochiamo, quindi subito a tutta insomma.